Qual è il gruppo più esclusivo di azioni da dividendi? Molti investitori hanno familiarità con le dividend aristocrats. Questi titoli sono aziende facenti parte dello standard per 500 che hanno aumentato i loro dividendi per almeno 25 anni consecutivi. Ma c'è un gruppo ancora più elitare di azioni con dividendi che non riceve la stessa attenzione. Le conosciamo anche queste tutti si chiamano dividend kings. Non devono essere membri dell'S500 ma devono raggiungere una serie di dividendi simile a un ultramaratona, almeno 50 anni consecutivi di crescita dei propri pagamenti da dividendo. Ecco cosa devi sapere sulle attuali dividend kings e su come possono inserirsi in un portafoglio di investimenti e qual è in questo momento la migliore. Ciao a tutti bentornati sul canale io risparmio. Io come sempre sono Pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale puoi trovare qui sotto il link nel caso tu lo volessi acquistare dove racconto la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Puoi trovare sia la versione cartacea che quella in formato Kindle. Due settori costituiscono una parte significativa dell'elenco delle dividend kings con 12 che sono nei beni di consumo e 14 invece aziende che sono industriali che costituiscono più della metà dell'elenco. C'erano anche 4 titoli sanitari e 5 titoli di servizi pubblici in questo gruppo. Quest'anno dovrebbe essere una sorpresa. Le aziende in questi settori tendono a pagare i dividendi ad aumentare i prezzi con l'inflazione e molte sono anche in attività da molto tempo e considerando che al momento di dividend kings ce ne sono solo 45 questa la dice ben lunga. Al momento che io sappia non ci sono ETF che si concentrano esclusivamente sulle dividend kings. Il motivo potrebbe essere che i dividend kings non sono necessariamente adatte a tutti gli investitori. Molti di questi titoli infatti offrono spesso una crescita relativamente bassa e non tutti amano questa cosa. Ad esempio 4 delle 5 dividend kings con il record più longevi di aumenti dei propri dividendi hanno sottoperformato lo standard P500 negli ultimi 10 anni. Tuttavia una o più dividend kings possono essere un ottimo componente di portafogli ad esempio pensionistici o dei vecchi decrepiti senza fare nomi e cognomi o cognomi senza fare nomi e cognomi o per gli investitori che cercano una distribuzione granitica e affidabile. La maggior parte di questi titoli offre rendimenti da dividendi superiori al rendimento dei dividendi che provengono dai membri dello standard P500, perlomeno la media. La loro coerenza nel pagamento e nell'aumento dei propri dividendi può anche fornire una misura di fiducia per chiunque dipenda dal reddito generato dalle azioni con questi dividendi che appunto le azioni che possiedono. Oggi voglio parlare di una delle ultime aziende entrata a far parte di questa elite perché la considero a mio parere una delle migliori anche se entrata a farne parte solo nel 2022. Mi riferisco a Kimberly Clark. Kimberly Clark si può far risalire come origine al 1872 ed è un'azienda globale di prodotti di consumo che opera in 175 paesi e vende beni di consumo usa e getta fra cui asciugavani di carta, pannolini, fazzoletti, carta igienica. Opera attraverso due segmenti che ospitano ciascuno molti marchi famosissimi e ben riconoscibili. Il segmento della cura personale per esempio include Huggies, i pannolini Pull-Up, Scott X, The Pen Poise e il segmento Consumer Tissue contiene i famosissimi Kleenex, Scott, Cotonel e Viva che generano quasi 20 miliardi di dollari all'anno di reddito. Kimberly Clark ha riportato gli utili del secondo trimestre il 26 luglio del 2022 e i risultati sono stati migliori del previsto sia nella parte superiore che in quella inferiore delle aspettative. L'utile operazione è stato di 1,34 dollari su base rettificata che è stato di 3 centesimi migliore di quello che era previsto. Il fattorato totale è stato di 5,1 miliardi di dollari in un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e di 110 milioni di dollari in più rispetto alle stime. La crescita organica delle vendite è stata del 9% con prezzi di vendita netti in aumento del 9% e il mix di prodotti ha aumentato le vendite dell'1%. Il management ha aggiornato le proprie prospettive per il 2022 e prevede che le vendite nette aumenteranno in una forchetta che va fra il 2 e il 4%, le vendite organiche invece aumenteranno fra una forchetta che fa fra il 5 e il 7% degli utili rettificati per azione da 5,6 dollari a 6 dollari per azione. L'azienda si è anche impegnata a elevare i suoi marchi principali come uno dei tre pilastri della crescita degli anni a venire. Lo farà lanciando diverse innovazioni di prodotto tramite estensioni di linee che sono già esistenti e anche tramite prodotti completamente nuovi e continuerà inoltre a gestire le proprie entrate tramite i prezzi e il mix nonché su strategie di tipo pronunzionale. Infine utilizzerà la propria esperienza significativa di marketing per perseguire categorie poco penetrate per ottenere guadagni di quote di mercato e in definitiva maggiori entrati e profitti. Il secondo pilastro della crescita è l'accelerazione della crescita nei mercati di tipo emergenti in via di sviluppo che costituiscono una parte significativa delle vendite dell'azienda. L'azienda si concentrerà in particolare sui suoi segmenti di cura personale e professionale con le maggiori opportunità provenienti in questo caso da luoghi in cui ha una bassa penetrazione di categoria e frequenza di utilizzo. Questa attenzione si pone in particolare nell'America Latina e in Cina ma anche in mercati più piccoli. Kimberly Kark prevede di utilizzare anche la sua significativa catena di fornitura e la sua esperienza di marketing per perseguire la crescita nelle aree in cui oggi ha prestazioni inferiori che dovrebbe anche contribuire a guidare una crescita incrementale. Continua anche con una politica del taglio dei costi. Ha infatti aumentato i suoi aiuti in liberazione grazie anche a riacquisti di azioni e ai programmi di riduzione dei propri costi. Il team di gestione di Kimberly Kark ha esteso questa iniziativa al 2022 puntando ad un ulteriore risparmio cumulativo di oltre 1,5 miliardi di dollari nel triennio successivo. Vantaggi e svantaggi competitivi di Kimberly Kark? Beh i vantaggi sono i suoi marchi e la sua economia di scala globale. L'azienda gode di una posizione di leadership in tutto il suo portafoglio di marchi e in effetti in tutto il mondo. Mantiene i suoi vantaggi competitivi anche attraverso il marketing e l'innovazione. Per chi non lo sapesse Kimberly Kark spende oltre un miliardo di dollari all'anno in pubblicità, ricerca e sviluppo. Ciò consente all'azienda di stare al passo con la concorrenza che in questo settore è apparecchio agguerrita. Inoltre la portata globale di Kimberly Kark fornisce all'azienda l'efficienza necessaria per mantenere bassi i costi. È stato istituito anche un programma che si chiama FORCE, Focused on Reducing Costs Everywhere, il concentrarsi a ridurre i costi in ogni area. È un esempio della sua capacità di gestire i costi anche quando i ricavi crescono e ha visto anni di successo nella riduzione dei propri costi operativi. A mio parere Kimberly Kark è un'azienda di altissima qualità con un portafoglio diversificato di marchi forti. A prospettive di crescita positive per il futuro è un track record di dividendi estremamente affidabile ed invidiabile. I mercati emergenti, la riduzione dei costi e il riacquisto delle proprie azioni evidenzieranno secondo me la futura crescita dei propri utili. Kimberly Kark ha aumentato il proprio dividendo per 50 anni consecutivi e attualmente ha un dividend yield del 4% circa, dipende un po' dalle sedute di questi ultimi giorni. Pertanto la si può considerare a tutti gli effetti una blue chip dei dividendi. Bene fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto, cosa ne pensi di Kimberly Kark, se l'hai già in portafoglio o se non la conoscevi o se stavi pensando di inserirla. Se questo video è stato di tuo gradimento per favore ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per l'agorittimo YouTube per farmi crescere su questa piattaforma. A te costa veramente un attimo del tuo tempo ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!